Tornerà a riunirsi giovedì 17 gennaio a partire dalle 18 il Consiglio Comunale di Imperia. Tra i punti all'ordine del giorno figurano le nuove modalità di gestione dei parcheggi a raso che torneranno in mano al Comune e saranno affidati alla Go Imperia. Il regolamento per la disciplina della videosorveglianza e una mozione di esponenti di maggioranza opposizione a sostegno delle pubbliche assistenze della Croce Rossa in merita alla procedura di gara per l'affidamento del servizio trasporto pazienti da parte della Regione. Il Consiglio Comunale dovrà inoltre procedere all'approvazione del regolamento per la pubblica fruizione della Sala Conveni e della Sala Mostre della Biblioteca Civica.